L'incontro che avrebbe dovuto segnare la ripresa del dialogo alla fine non c'è stato. È stato infatti annullato il faccia a faccia previsto tra il presidente della regione Rosario Crocetta e il segretario del PD Giuseppe Lupo che avrebbe dovuto lanciare un segnale di distensione dopo che il partito ha ritirato il proprio appoggio al governatore. Un incontro quello di stamattina che sarebbe dovuto arrivare inoltre alla vigilia della direzione regionale del Partito Democratico prevista per questo pomeriggio alle 15.30. Ufficialmente i vertici del PD siciliano sono stati convocati per iniziare a preparare il congresso ma gli argomenti legati al governo inevitabilmente troveranno spazio. Due assessori della giunta regionale inoltre hanno rimesso il proprio mandato nelle mani del presidente della regione e dello stesso Partito Democratico. Si tratta di Luca Bianchi all'economia e di Bartolotta alle infrastrutture. Sono stati loro due ad accogliere l'invito rivolto dal Partito Democratico e i suoi assessori a lasciare il governo Crocetta. E per quanto le dimissioni siano state formalizzate ancora però non c'è alcuna decisione definitiva. Hanno invece per il momento deciso di restare gli altri due assessori in quota Partito Democratico ovvero Mariella Lobello all'ambiente nell'iscilabra alla formazione.